Ringrazio questo comitato che, come gli altri che stanno lavorando, che si è adoperato addirittura per raccogliere 100 domande, e dico 100, dei cittadini che sono le domande più frequenti rispetto al referendum. Mi hanno detto, vuoi rispondere alle 100 domande? Ho accettato, per cui questo libro ha le 100 domande raccolte con le mie 100 risposte. In generale questo referendum riporta il centro del cittadino che è artefice del proprio futuro. C'è una consultazione referendaria così importante, così plebiscitaria, così unica nella storia non solo del Veneto, ma dell'Italia, che riporta al centro dell'attenzione il cittadino e fa uscire di scena sempre i vecchi tromboni che decidono per noi. E' bene che nessuno di noi veneti abbia alibi quel giorno, se vai a votare sei andato a votare, se non ci sei andato vuol dire che non credi in tutto quello che sta accadendo in Veneto.